Fino a martedì, sull'onda delle novità legate alla prorogavia e al nuovo protocollo concluso tra Ministero ed Eni, sembrava che il Consiglio Comunale monotematico sul caso già convocato dal presidente Salvatore Sammito non si dovesse più fare. Anche l'esponente di un'altra Gela era orientato a soprassedere. Ieri, dopo il confronto con i consiglieri che hanno firmato la richiesta di monotematico sulle vicende Eni, è arrivata invece la conferma opposta e il Consiglio si farà lunedì sera. Tutto confermato, sono stati convocati i deputati del territorio, le parti sociali e anche Eni. Sammito infatti ritiene che l'azienda debba spiegare gli sviluppi che un'intesa così importante potrà assicurare al territorio. La politica locale ma anche quella regionale sono state tagliate fuori dalla firma del protocollo destinato alle fasi di totale decarbonizzazione del sito industriale, un modus operandi molto politico che poco è piaciuto anche se lo sblocco di possibili investimenti potrebbe rendere meno amaro il calice messo sul tavolo delle istituzioni locali. Lunedì si saprà se i manager del Canasse Zamp risponderanno alla convocazione dell'assise civica. I consiglieri, come ha spiegato lo stesso Sammito, sono inoltre pronti a mettere nero su bianco le rivendicazioni di un territorio da anni sospeso in attesa di investimenti congelati dalla burocrazia ma anche dalla mala politica, verrà consegnato un documento ufficiale al ministro Giuseppe Provenzano. L'esponente dem del governo Conte è atteso in municipio sabato sera. Sembrava che la visita potesse saltare a causa degli scioperi aerei previsti per la fine settimana. Il ministro però sarà in città intorno alle 20 di sabato. È previsto un vertice direttamente in municipio. Provenzano incontrerà l'amministrazione comunale, le parti sociali e probabilmente una rappresentanza del consiglio comunale. Sarà quindi l'occasione giusta per consegnargli il documento che verrà preparato entro le prossime ore.